Musica Mancano meno di dieci giorni al debutto nel campionato di Serie B. L'Entella infatti debuterà il 24 agosto al Comunale contro il Livorno. Per conoscere da vicino i giocatori della Virtus Entella, quello che sarà la rosa di quest'anno, è stata organizzata una serata. L'appuntamento è fissato per mercoledì 21 agosto dall'Eventi in Piazza Fenice. Cosa succederà? Ci sarà una prima parte dedicata ai Caravelle che introdurranno la serata, dopodiché ci sarà la presentazione dei calciatori dell'Entella, dello staff, soprattutto dei nuovi calciatori che i nostri tifosi non possono ancora conoscere e dopo riprenderà la musica con i Caravelle fino a concludere la serata. Una presentazione ufficiale che nasce da un'idea iniziale, perlomeno dai tifosi. Sì, è un'idea nata sull'onda della festa del 4 maggio, quando abbiamo vinto il campionato con la Carrarese. Da lì è partita questa idea di fare qualcosa con i tifosi che nelle ultime settimane del campionato ci erano stati così vicino, soprattutto nelle ultime due settimane. Così è nata questa idea di fare qualcosa insieme, c'è stato il contatto con il gruppo dei Caravelle che, come sapete, è un gruppo molto famoso nella nostra zona. Si sono dati disponibili per intervenire nella serata e da lì è nata questa idea, cercando di fare l'evento in una piazza un po' più raccolta, più particolare come Piazza Fenice. Cerchiamo di convogliare un po' tutti i tifosi e tutti quelli che vogliono bene a Lentella per stare un po' insieme in questa serata. Quindi sport, musica e anche solidarietà. Sì, ci sarà anche un momento dedicato alla solidarietà perché entra nel cuore e farà il suo banchetto in cui raccoglierà fondi per i suoi progetti. Che tipo di lavoro è stato fatto per costruire la rosa dei giocatori del prossimo campionato? Il nostro direttore sportivo ha cercato di costruire una squadra che possa competere nel campionato di Serie B, cercando anche di ringiovanire la rosa. Il primo impatto nella prima partita non è stato positivo. Diciamo che secondo me tutto l'ambiente, anche i tifosi, lo stadio, il contesto non è stato il migliore per approcciare la nuova stagione. Infatti poi alla fine c'è stata una prestazione decisamente sotto tono, un risultato negativo. Ora dobbiamo recuperare un po' di strada perché siamo indietro e quindi sicuramente anche la serata del 2021 va vista come un momento per ricaricare un po' le pile perché tre giorni dopo ci sarà una partita fondamentale con Livorno. Ci sono tanti giocatori nuovi, giovani, che hanno bisogno di sentire il calore della società, dello staff, di tutti quanti, per poter approcciare al meglio la stagione e riprendere il percorso che abbiamo interrotto il 4 maggio e che sembra, insomma, abbiamo un po' perduto. Sugli nuovi arrivi non ci dice niente, l'ha già detto, ma sulle partenze? Beh, sicuramente la Rosa avrà ancora qualche piccolo cambiamento, bisogna vivere la giornata perché le opportunità di questo mercato capitano di giorno in giorno quindi il nostro direttore sta cercando di trovare gli spunti giusti per migliorare ulteriormente la Rosa. E quindi una serata di festa, trasporto, musica e solidarietà il 21 agosto alle 20, dalle 20 in Piazza Fenice. Lei ci sarà? Beh, ci sarà sicuramente, spero che ci siano tanti tifosi per stare insieme e fare un abbraccio simbolico prima della prima partita. A proposito di tifosi, come sta andando la campagna abbonamenti? Bene, molto bene perché abbiamo avuto la conferma dell'85% dei tifosi che l'anno scorso erano abbonati per l'Entella, quindi un dato molto positivo. Adesso è iniziata la vendita per i nuovi abbonati e quindi contiamo di superare il numero di mille abbonati che è un po' il muro oltre il quale riteniamo possa essere un risultato soddisfacente per questa stagione. Grazie per la visione!